Vittoria, molto sofferta, sicuramente più del previsto, è primato in classifica. Nel giro in H di Serie D, seppur in condivisione, il doppio colpo riesce al Casarano nel derby del Salento giocato al Capozza, batte 2-1 in rimonta un ottimo Ugento e aggancia in vetta alla graduatoria la Nocerina, sconfitta invece nel derby di Campania disputato in trasferta contro la Palmese. Squadre a confronto, addirittura a distanza di quasi 100 anni dall'ultima volta, contenuti tecnici differenti tra le due contendenti, ma per tutta la durata della partita il gap si nota davvero poco, anzi sono gli ospiti a rompere l'equilibrio dopo 8 minuti, Sanchez pennella il cross dalla destra ancora in corna in maniera impeccabile e non lascia scampo a Fernandez, 0-1. La reazione del Casarano, lo Iodice con il destro centra il palo ma in precedenza si alza la bandierina dell'assistente per segnare fuori gioco, non manca la personalità alla squadra di Mimo Oliva, ex della partita, Sanchez conclude con il destro, neutralizza Fernandez. Aiutato anche dal palo nella successiva occasione per gli ospiti. Poi sale in cattedra il portiere dell'Ugento, ottimo l'intervento a negare il gol del pari a Cerrutti, assistito nella circostanza dallo Iodice. Insistono gli uomini di Giuseppe La Terza in chiusura di frazione, non c'è malcore per infortunio, c'è a guidare l'attacco Saraniti che di testa impegna così l'estrema ospite. Ci prova Valentino, nulla di fatto, ci provano sino al termine del primo tempo i padroni di casa ma senza effetti sul punteggio, Saraniti di prima intenzione con il mancino, non c'entra lo specchio, Versienti va a segno in pieno recupero ma è tutto inutile, bandierina alzata, 0-1 all'intervallo per l'Ugento, ripresa che si apre con un episodio clou, De Santis entra così ai danni di Cerrutti in mezzo al campo rosso diretto e ospiti in dieci uomini. Il Casarano prova a sfruttare la superiorità numerica ma è ancora a sfiorare il raddoppio per i suoi notevole nella circostanza alla replica di Fernandez. Provano a scuotersi i ross-azzurri, Valentino trova l'opposizione di Didonato, sbaglia la mira poco dopo legittimo da fuori aria, protesta del Casarano poco dopo l'ora di gioco ma l'arbitro lascia correre, assegna la massima punizione invece ad un quarto d'ora dal termine per questo tocco in aria dal dischetto. Lo Iodice non lascia scampo a Didonato e fa 1-1 con il terzo centro personale in campionato, il quarto in stagione. Non si accontenta del pari la squadra di la terza, Opola di testa alza troppo la mira, poi la usa bene a meno 7 dal novantesimo e fa gioire il capozza. Vince soffrendo molto ma vince il Casarano 2-1 e vetta dalla classifica in condominio con la nocerina a quota 26 punti. Rossazzurri impegnati primo a mercoledì al Tursi contro il Martina nella gara secca dei sedicesimi di Coppa Italia e poi domenica al Miravare sul campo di un Manfredonia rigenerato dalla vittoria sul campo dell'Ischia. L'Ugento invece proverà a reagire alla sconfitta del Capozza nello scontro diretto. Casalingo contro la Cenerentola Brindisi.